Bilancio pesantissimo di queste ultime 48 ore di maltempo in Campania. Un uomo di 62 anni è morto a Napoli, schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo e accaduto intorno alle 7 in via Nuovo Agnano. L'uomo di nazionalità marocchina si chiamava Mohamed Boulaziz, presente da anni in maniera regolare sul territorio. Risiedeva a Maddaloni e lavorava come commerciante. La bufera di vento che ha colpito la campagna nelle prime ore del mattino ha provocato la caduta di numerosi alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città. Il comune di Napoli ha diffuso un avviso in cui si invita a limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario. Biglietterie dei traghetti e degli aliscafi scoperchiate dal vento a Marina Grande e a Capri, collegamenti interrotti da e per le isole. Una nuova colata di terra e pietra è caduta sulla statale amalfitana, provocando l'interruzione della viabilità in località vettica. La strada al momento è interrotta e servirà tempo per ripristinare la situazione. I carabinieri della locale compagnia e il personale dell'ANAS sono al lavoro per capire le modalità di intervento. L'ennesimo smottamento, il terzo in appena nove giorni, ha reso ancora più complicata la situazione della viabilità lungo la statale. Amalfi resta raggiungibile soltanto attraverso il valico di Chiunzi, mentre Positano tramite la statale Sorrentina o via Gerola. Interruzioni si registrano anche in località Capodorso, a Maiori e a Cetara. Al momento, fa sapere l'ANAS, la strada è chiusa da Amalfi a Vietri sul mare. Nella notte liberate anche le 200 persone rimaste intrappolate all'hotel Cetus. La protezione civile della regione Campania ha prorogato l'allerta meteo fino alle 16 di lunedì 23 dicembre sull'intero territorio regionale.